La sostenibilità è un tema parecchio ampio che riguarda tutto il nostro modo di vivere, il nostro modo di porci nella società. Noi come Conai ci occupiamo di una parte di questo problema che è rappresentato dalla gestione dei rifiuti di imballaggio nel loro fine vita. Facendo questo lo facciamo sia in fase operativa, per cui collaborando con i comuni per fare raccolte differenziate, per avviare il riciclo il maggior quantitativo possibile in materie prime e seconde. Poi abbiamo delle strategie di prevenzione della produzione dei rifiuti, dell'ecodesign, cioè la progettazione degli imballaggi affinché essi siano più riciclabili nel loro fine vita. Facciamo prevenzione cercando di minimizzare l'impatto degli imballaggi e tutto questo lo facciamo in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità. Grazie.